dal comune di torino con in forma disabilità vogliamo comunicare il prossimo evento l'evento del mao museo arte urbana visita all'aperto l'evento all'obiettivo di far conoscere l'arte distribuita nella città di torino leggendo tramite dei dipinti dipinti su murales che raccontano storie storie di con vari significati storie belle affascinanti tutto è possibile anche tramite il servizio di interpretariato rissa e con la visita guida guidata teatralizzata da una guida esperta l'incontro sarà il 20 aprile alle 15 e 30 con ritrovo presso la chiesa di sant'alfonso via netro 3 a torino e vi aspettiamo in tanti tanti numerosi grazie